sono le 13 e 31 della 27 gennaio 2023 guardate quanto è bello luco il mio caro amato paese visto sulla strada della conicella allora facciamo una cosa ingrandisco al massimo al massimo quello è l'estremo periferia est vedete c'è la variante quest'altra qui che vedete diretta un'altra strada vabbè è tutta una strada assente allora se faccio se rimbiccolisco si vede meglio ecco qui questo vede l'ammatà di luco dei marsi non si vede tutto il paese fammi rimbiccolire e rimbiccolire e rimbiccolire e rimbiccolire bene continuo la mia discesa